Battendo per 1-0 l'Agnonese, complice della sconfitta della Miterlina, a Giulianova riesce il doppio sorpasso. Due occasionissime clamorose per parte, ma si sa che nel calcio vince chi mette la palla in rete. La cronaca comincia al quinto minuto per il Giulianova, quando Cerasi non arriva alla deviazione su un cross alla sinistra. Poi Agnonese, che conquista il centrocampo e comincia a mettere in apprezzione la difesa giuliese, come al tredicesimo, quando Marolda si invola verso la porta di Ursini, ma sbaraglia e riesce a recuperare, mandando in angolo la sfera. Cinque minuti dopo è clamoroso il gol che si divora il molisano di Ronza, che da due metri dalla porta supera il suo marcatore e con Ursini praticamente battuto spara un destro che si perde in curva. Passata la paura, il Giulianova tenta di essere più incisiva e dal trentaseiesimo sembra restituire il favore ai molisani, quando in area si crea una mischia con sbaragli e Marini che fanno il tirassegno davanti alla porta di Mancino. Due minuti dopo ancora Giulianova, punizione di Pellecchia, palla deviata dalla barriera che assume una parabola che sfiora il palo. Non succede più nulla in un primo tempo brutto, ravvivato solo dalle due occasioni, una per parte fallite. Ripresa che inizia in maniera soft, anche se è sempre l'Agnonese a cercare di fare la partita, e così come nel primo tempo, anche nel secondo, la gara si accende all'improvviso, seppur povero di azioni da gol. Comincia l'Agnonese al quattordicesimo con Guida, che scalda i guantoni ad Ursini. Dalla stessa bandierina svetta di testa Campanella, tutto solo, ma incredibilmente sbaglia così. Due minuti dopo è il Giuliese e Alessandrone a divorarsi il vantaggio, ottimamente impeccato da un cross di Pellecchia. La sensazione del risultato ad occhiali c'è tutta, ed invece ecco al 29esimo il gol partita che fa esplodere il Fadini. I centrali molisani cincischiano sulla palla che arriva a Pellecchia, delizioso pallonetto e mancino battuto. Gara che cambia volto, con l'Agnonese all'assalto e Giulianova che si difende, e così dopo cinque minuti di recupero può esplodere la festa giallorossa. Grazie.